Dalla, 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 that's what I need Efected at me, Dalla, 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 that's what I need If I share with you my story, don't share your dollar with me E' una nuova volta di Dollar Choice Ancora uno stallone italiano nato, le 8 in Italia Da signora Delia Flora E' nato nel 2006, è stato già approvato per il Dicom Pimbe E' nato anche per il sale italiano Questo sauro nasce da Pierre Grandissimo performer, ma più nel mondo a squadre ai web del 2012 Moltissimi gran premi vinti da Dollar della Pierre La madre è Ocarina, fatrice di origine olandese Una fatrice premiata in Olanda Nasce da Jean De Com e da Carina Che è una figlia di Niverdo Arden Z Dollar Choice, il soggetto che si era già messo in grande evidenza Era funerrino, da tre anni anche Ricordiamo le rassegne di travagliato Il Santo Libertà, classificarsi a moltissimi posti Quando a partire nel Santo Libertà c'erano 100 cavalli E' un'altra parte, non come ora partono i denti Ai Noi Dopodichè ha svolto attività sportiva fuori confini In Slovenia e poi in Austria E' stato approvato per il Dicom Pimbe E' allora rientrato a casa, per così dire Dopo aver svolto attività sportiva anche con Armando e Filippo Bologni Ed ora è pronto a conoperare come stallone Pur continuando la sua carriera sportiva Abbiamo qui la dilatrice, dottoressa Flora Che coppina? Possibile Signora, ci conosciamo a tempo Questo vallo che ha messo da Polene Un pezzo di fondo Questo vi posso dire di Donnar Ho visto nascere E' nato da Limpia Transport Da questa mia cavalla, la Carina Che è figlia di Donnar Cavalla Per cui mia figlia prese il secondo grado E poi avrò solo per 6 anni di pomodoro Facendo dare il primo livello Lui, io ho scelto, con la mamma, Donnar de la Pierre Perché è uno figlio di Kidabia Ravel Molto inseguato Quindi la linea materna è anglo-araba E infatti è un po' algo molto sereno, molto profilo Ma con un percentuale di sangue molto spettato C'è un po' di semplicemente Un cavallo di grande qualità Non ha mezzi, ma movimenti E' molto sereno Tante cose, tanta roba Un professionista Ha già dei figli nati in Italia O un peggio? Lui ha figli nati in Italia Uno con una femmina casera Il Dr. Coma che ha 6 anni Che limiterà ora E uno in eurotransfer Con il proprio cavallo Ancola 2 Cash Che è sonetta del cavallo Che vi cercherò dopo Figlia di Toste E' già padre Ma speriamo che contiene Ne sono ancora di più Nel resto E' stato presentato questo show Per questo motivo Per fare in modo che tutti i presenti C'è il commentario di Dollar Juice Ed anche a Dollar Juice Fa la boccarda, la tarca Il buono sconto per i peccatori Della vita scandinavia Ed ancora La confezione I biscotti Della stanza E un applauso C'è il buono sconto per i peccatori